Un passo che l'umanità fece circa 125 anni fa è in cominciare a comprendere il campo elettromagnetico e questo ha cambiato la nostra civiltà nel modo più fondamentale e ha dato alla luce il mondo tecnologico che abbiamo oggi Il passo successivo per l'umanità è comprendere la gravità e imparare a controllarla e di nuovo darà la luce e la nostra civiltà e la farà diventare una civiltà dello spazio che libererà l'umanità dalle quantità limitate di risorse che noi abbiamo nel nostro mondo e libererà la terra da tutte le persone Grazie a tutti